12esimo, Ba dalla destra, Trasson anticipa Gans, guarda l'orologio da Leone ma è passato appena un 4 d'ora, un brutto 4 d'ora, Ba taglia la tela e si oppone alla grande, rivediamo come taglia la tela, ancora un lunghissimo lancio per Gans a volo e taglia la tela a zero, passaggio per Gans di Ba, viene Maimi subentrato a Leonardo, per Reba tutto solo, conquista il campo, tranquillo. Vede il compagno Gans, appoggia, sinistro delicioso ed è il 2 a 0, niente da fare per taglia la tela che comunque era appostata.